Allora, a distanza di un mese dalla piaccolata abbiamo pensato di riunirci ugualmente. Allora, se ci avviciniamo un attimo tutti quanti. Allora, a un mese dalla piaccolata abbiamo deciso di rinnovare questo appuntamento per poter parlare. Quella sera non è stato possibile dare voce alla cittadinanza in modo tale da ascoltare le proposte anche nel tentativo di fare una mappatura delle criticità che ci sono con riferimento alle povertà nella nostra città, ma anche una mappatura delle possibilità, delle risorse che possiamo mettere in campo e anche nel tentativo di progettare un intervento un po' più allargato, non limitato solo agli operatori, alla Caritas, alle altre associazioni, quindi anche ai cittadini che non fanno parte di altre realtà associative che possono dare una grossa mano. Quindi ora ci avviamo lentamente verso il salone e inizieremo giù l'assemblea.